Il primo partito accalta in i sette l'Udc con il 14,7%, secondo partito il PD con il 13,6%. Secondo il criterio della ripartizione dei seggi con il metodo del proporzionale puro, i seggi spettanti ai partiti dovrebbero essere così suddivisi. Cinque all'Udc ed entrano in Consiglio Comunale Salvatore Calafato, ex assessore della Giunta Campisi, con 544 voti. Ritorna Adriana Ricotta con 504 voti, New Entry Rita Daniele con 438 voti e Guido del Popolo con 400 voti. Ed infine Giuseppe Tuminelli con 363 voti. Cinque seggi vanno al PD, prime tre tutte donne, Annalisa Petitto 505 voti, Manuela Margherita 465 voti, Leila Montagnino 453 voti, Francesco Dolce 434 voti e poi Angelo Scalia che ritorna sugli scranni di Consiglio Comunale con 420 voti. Tre seggi sono stati assegnati a Intesa Civica Solidale, Carlo Campione con 471 voti, Piero Cavaleri con 316 voti, ma considerato che è stato designato assessore della Giunta a Ruvolo, probabilmente se Ruvolo vincerà prenderà lo scranno Lorenzo La Rocca che è stato eletto con 229 voti. Ed infine Graziella Riggi con 286 voti. Tre seggi vanno a cambiare Caltanissette, dunque è stato eletto Luigi Romano con 440 voti, Salvatore Mazza con 334 voti e Lillo Rizza con 310 voti. Arriva a Palazzo del Carmine Salvatore Licata, ex sindaco di Buonpensiere con 537 voti e Rosalia Talluto con 382 voti. Per le liste dei candidati sindaco perdenti la suddivisione dovrebbe essere questa. Due seggi vanno all'NCD, ritorna a Palazzo del Carmine Angelo Failla con 385 voti e Rino Bellavia con 350 voti. Tre seggi scattano a Forza Italia. Liste che hanno appoggiato Sergio Iacona, primo degli eletti in assoluto per tutto il Consiglio Comunale, Davide Mirisola con 596 voti, secondo Calogero Adornetto con 584 voti, terzo Oscar Aiello con 386 voti. Due seggi vanno a Caltanissetta protagonista, unica lista di Michele Giarratana che ha superato lo sbarramento del 5%. Diventa così consigliere comunale Oriana Mannella con 241 voti e Salvatore Pretrantoni con 182 voti. Tre seggi vanno ad Officina Politica, in Consiglio Comunale ritorna Gianluca Bruzzaniti con 469 voti, Walter Dorato con 373 voti e ritorna anche Antonio Favata con 276 voti. Officina Politica appoggiava la candidatura di Gioacchino Loverme. Due seggi vanno alla lista del Movimento 5 Stelle che ha appoggiato la candidatura di Giovanni Magri e dunque arriva a Palazzo del Carmine lo stesso Magri con 215 voti e Valeria Laimo con 309 voti. C'è un'ipotesi irremota che potrebbe cambiare a ribasso i giochi. Infatti, secondo la nuova legge elettorale, se il candidato che prende una maggiore percentuale a primo turno dovesse apparentarsi con una delle liste perdenti, aumenterebbe il numero di voti, ma perderebbe nella ripartizione dei seggi delle liste che lo hanno supportato a primo turno.